In questa iniziativa che la Regione Umbra ha portato avanti presso la cascina Triulza, centro della società civile all'Expo, io ho voluto portare a fianco delle iniziative nel campo del cibo, che è la base, però anche il discorso del tessere naturale, perché noi riteniamo che l'Umbria ha tutte le potenzialità, sia agricole che tecnologiche, di portare avanti questo settore, che era un settore tradizionale dell'Umbria. E quindi abbinando cultura, tradizione, capacità agronomica e capacità tessile, secondo me è un settore nuovo su cui ci si possono concentrare degli sforzi comuni.